Una delle concessioni moderne più diffuse sulla libertà è questa. La mia libertà finisce dove incomincia la tua. Ma qui manca la relazione, il rapporto. È una visione individualistica. Invece, chi ha ricevuto il dono della liberazione operata da Gesù non può pensare che la libertà consista nello stare lontano dalle altre, sentendoli come fastidi. La pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma non basta saperlo, occorre sceglierlo ogni giorno concretamente, decidere su quella strada. Diciamo e crediamo che gli altri non sono un ostacolo alla mia libertà, ma sono la possibilità per realizzarla pienamente.